Buongiorno a tutti, bentornati nei nostri studi per il consueto appuntamento in diretta con la rassegna stampa. Oggi 15 aprile, andiamo subito a vedere la situazione del tempo e del traffico sul nostro territorio e poi passiamo alla lettura dei quotidiani in edicola quest'oggi. Allora il meteo dal sito di Limet e la situazione di oggi, un quadro meteorologico che cambierà drasticamente nelle prossime ore, lo vediamo dalla grafica del sito di Limet, c'è infatti una veloce perturbazione che entra nel Mediterraneo e che interesserà soprattutto questo pomeriggio anche la nostra regione, quindi avremo rovescio, temporali pomeridiani e poi schiarite domenica e ancora nuvole in aumento nella giornata di lunedì. Quindi dobbiamo assistere nelle prossime ore a questi cambi repentini del meteo. Lo vediamo anche nella grafica come cambia appunto da questa mattina a oggi pomeriggio con temporali nell'entroterra in particolar modo su Genova e sul Ponente, pioggia anche sul Levante. Il mare sarà leggermente agitato, ventitesi, temperature stazionari e le minimi e in leggero calo invece le massime. Diamo uno sguardo alla giornata di domani, domenica 16 aprile, in questo caso invece torna il sole soprattutto sulla costa, quindi una giornata in prevalenza soleggiata su tutta la Liguria, venti moderati, mare poco mosso sotto costa e mosso a largo, temperature pressoché stazionarie. Diamo ancora uno sguardo alla giornata di lunedì dove avremo ancora un piccolo cambio, come dicevamo, quindi cielo nuvoloso sui versanti padani con occasionali piovigini, velato, poco nuvoloso in costa, ventilazione sostenuta da nord-est e lieve calo termico. Questo dunque è il meteo, la situazione delle temperature in questo momento è una situazione diversa rispetto a quella delle ultime ore, come vedete anche dalla grafica per esempio sulla costa in questo momento una temperatura che oscilla tra i 12 e i 14 gradi, quindi stanno aumentando rispetto appunto ai giorni scorsi. In autostrada attualmente non ci sono particolari segnalazioni sul tratto di competenza che dal nostro territorio porta al capoluogo Ligure e attualmente non ci sono segnalazioni neppure per le principali direttrici della A7, A26 e A10, quindi si viaggia senza problemi. Eccoci dunque all'apertura dei giornali, ne dicono a quest'oggi, come sempre iniziamo dal quotidiano cattolico Avvenire che titola Senza protezione, si fa riferimento all'emendamento della maggioranza che insiste sulla linea dura per i migranti, l'ONU via le norme dice sulle ONG. Lega e Fratelli d'Italia uniti contro i permessi speciali, Piantedosi dice sì, l'emergenza è solo un fatto tecnico, Meloni è ad Addis Abeba e rafforza l'attenzione per i paesi africani e spiega a ottobre il piano Mattei. In ogni caso non cede la linea dura sui migranti, anche dopo l'appello dell'ONU che chiede all'Italia di fare un passo indietro sulle misure anti-ONG. L'obiettivo della maggioranza che ha le prese con il decreto Cutro è quella di azzerare la protezione speciale e quindi restringere il più possibile i permessi di soggiorno per calamità e per cure mediche. La stabilità del corno d'Africa, anche per ridurre i flussi migratori, è invece al centro della visita di ieri e di oggi della Presidente del Consiglio in Etiopia. A centro pagina si parla di ambiente, c'è il rischio di un disastro ambientale, quello della subsidenza nel territorio del Delta del Po e la Chiesa e i suoi pastori prendono l'iniziativa di un confronto lontani da ogni lotta di parte, dicono siamo in pace, la Chiesa opera accanto alle istituzioni. Però il tema in questa zona è molto caldo, ci sono alcuni comuni che affrontano questo argomento delle trivelle al Delta del Po e quindi i territori frenano, tre vescovi chiedono un confronto aperto. L'intervista alla Ministra Roccella che dice per chi ha quattro figli 200 euro in più al mese, quindi c'è questa rivendicazione di un aumento dell'assegno unico, misure per la famiglia, quindi non solo però assegno unico, i tempi sono quelle di magre risorse pubbliche, quindi la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella rassicura però sulle intenzioni del Governo di sostenere i nuclei familiari, non solo quelli numerosi naturalmente, soprattutto con l'obiettivo di creare un clima favorevole alla denatalità, alla natalità scusate. D'altra parte i dati che sono emersi, questi ultimi, dell'Istat sull'anno scorso sono stati dati ancora una volta drammatici e hanno segnato un record per quanto riguarda le nascite nel nostro territorio, un record negativo. All'interno del giornale l'approfondimento veloce, andiamo in Francia, barricate che continuano, i giudici assolvono, tra virgolette, Macron, la riforma delle pensioni è legittima perché non viola la Costituzione, afferma la Corte, che boccia anche un possibile referendum. E così, assediata per ore in attesa della sentenza alla sede del massimo organo giudiziario e poi subito proteste e lacrimogeni in centro a Parigi. Respinto al mittente, immediatamente l'invito del Presidente ai leader del sindacato per martedì prossimo, che già annunciano battaglia e una mobilitazione eccezionale per il primo di maggio. Soltanto sei articoli sono stati emendati dai saggi. I togati hanno deluso le attese, quindi volevano una censura più rigorosa delle norme, immediata la reazione della piazza, timori di violenze, soprattutto a Rennes e Nantes. Adesso veniamo alle notizie locali, ci avviciniamo al territorio leggendo la prima pagina del secolo XIX che affronta ancora una volta in questi giorni il tema del turismo. 5 terre a senso unico, questo è il titolo. Vertice in regione, il parco prepara limitazioni per i sentieri. Il ministro Musumeci dice regolare i flussi è una priorità. In questa immagine la folla di turisti a Vernazza accanto al castello che indica la direzione del sentiero azzurro. La cronaca, Savona, arrestato a 16 anni per tentato omicidio. La causa usata come set, lite per video sui social. Il ragazzo accoltella la madre. Aveva spostato i mobili in casa per girare un video, condividerlo con gli amici sui social. Quando la madre poi lo ha sgridato, lui ha afferrato un coltello, ha cercato più volte di colpirla, afferendola ad una mano. È successo appunto a Savona, il protagonista, un ragazzo di 16 anni, è stato arrestato per tentato omicidio. A fianco vedete in breve l'inchiesta scritta da Matteo Indice. Lavagnese interrogato per il tentato omicidio nei vicoli di Genova. Lo ritroveremo poi all'interno del giornale, nella pagina del Levante. Tre flash in alto. Lo Sport, lo Spezia illude e poi crolla. Il piccolo Lazio vince 3-0. Scontri tra tifoserie e paura in città. A fianco a Monte Carlo il doppio 6-2 ai quarti. Con Sinner che travolge Musetti e ora può sognare la finale. 30 posti di lavoro a rischio. La IML di Casarza Ligure va in liquidazione. È la notizia che troviamo in apertura sulla pagina del Levante. Eccola qui. IML di Casarza Ligure. Una situazione difficile da qualche anno, lo ricorderete. Ora, appunto, la liquidazione. Sono a rischio 29 posti di lavoro. Il Tribunale di Milano fissa per il 27 di settembre l'udienza con i creditori. Ma l'azienda pensa al ricorso. Nelle immagini vediamo alcuni sindacalisti che stanno seguendo da tempo ormai questa vicenda. Ma in particolare abbiamo la scheda. Una grafica che ci spiega nel dettaglio e in sintesi cosa sta accadendo. Il 1994 è l'anno di inizio attività della IML, industria meccanica Ligure S.P.A. Un'azienda produttrice di componenti per l'estrazione petrolifera e per i gasdotti. 3 milioni e mezzo il capitale sociale, 218 l'anno della frana, che il 13 aprile aveva gravemente danneggiato lo stabilimento in località Bargonasco. 70 i dipendenti prima della crisi, aggravata poi dalla necessità di riacquistare alcuni impianti e dalle maggiori spese sostenute per l'interruzione di alcune attività. 29 invece il numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno scorso. Mercoledì, qualche giorno fa, è stata dichiarata la procedura di liquidazione giudiziale e il prossimo 27 settembre appunto si svolgerà l'udienza dei creditori per l'esame dello Stato passivo. In centropagina l'intervista al sindaco di Casarza Ligure. Le istituzioni sono vicine ai lavoratori in questa fase, ma non solo, anche in questi anni c'è stata attenzione, pronti a sostenere le famiglie in crisi, dice Giovanni Stagnaro, in prima linea per operai ed impiegati. Non ha ancora avuto notizie ufficiali il sindaco sulla situazione dell'IML, ma è pronto a impegnarsi per trovare una soluzione. Se ci saranno criticità estreme, dichiara, siamo disponibili ad assistere concretamente gli operai e ad accompagnarli in eventuali percorsi e iniziative sindacali per attivare strumenti di assistenza straordinaria. Siamo anche pronti a metterci in contatto con gli enti superiori. Mi sono sempre interessato dalla questione e continuerò a farlo per tutelare i lavoratori e le loro famiglie. Questa è dunque la prima pagina del Levante. Adesso andiamo all'interno del quotidiano, sempre con un'attenzione al territorio. In seconda pagina troviamo il punto sul piano sociosanitario dell'Asle 4, che ieri è stato presentato ai sindaci del territorio. Un piano però non condiviso, dicono i primi cittadini, perché è a rischio il futuro della nostra Asle. Raffica di osservazioni. Leggiamo al documento sociosanitario della regione pronto soccorso e delle superfici sotto la lente degli amministratori. Anche in questo caso abbiamo una scheda. Quali sono le richieste, insomma, in breve, dei sindaci di Asle 4? Il potenziamento di pronto soccorso e guardia medica, deroga alla riorganizzazione del 118 che comporterebbe la perdita della centrale operativa lavagnese. La creazione nel pronto soccorso di lavagna di nuovi spazi, soprattutto per le lunghe attese, riapertura del punto di primo intervento a Rapallo, l'aggiunta di un'auto medica, un piano di sviluppo infrastrutturale delle piazzone dell'elisoccorso, l'inserimento nel piano del progetto del comune di Santa Margherita per un'elisuperficie al porto, chiarimenti sugli ospedali di comunità e sui posti letto previsti, condivisione dei piani di attività che tengano conto delle misure per la non autosufficienza, potenziamento del numero di psicologi e neuropsichiatri infantili per la presa in carico dei minori in condizioni di disagio, ma anche la sperimentazione di una comunità sociosanitaria di osservazione. Infine, l'aumento dell'offerta di posti letto nelle strutture residenziali per anziani, parificazione delle rette rispetto ad altre ASL, maggiore offerta di attività di urne per disabili. Tanti problemi dunque sul tavolo, tante richieste, tante osservazioni, vedremo insomma come andrà questo percorso. Ora vediamo l'intervista, il servizio fatto da Andrea Capitani, che ieri pomeriggio di mattina ha partecipato a questo incontro e ha incontrato il direttore generale di ASL4. La situazione critica in cui inverso il pronto soccorso di Lavagna, il mantenimento qui della centrale operativa del 118, la necessità di potenziare i servizi di guardia medica soprattutto nei comuni dell'entroterra, in collaborazione con i medici di medicina generale, l'incremento del numero dei posti letto accreditati residenziali per le persone anziane. Sono alcune delle carenze che i sindaci della conferenza dell'ASL4 hanno evidenziato nei contenuti del piano sociosanitario elaborato dalla Regione Liguria per quanto riguarda il comprensorio dell'ASL4. Tra i punti sollevati, illustrati in aula dal direttore del distretto sociosanitario 15, ci sono le difficoltà degli spostamenti tipiche del nostro comprensorio servito da un servizio di trasporto pubblico non così capillare come nel capoluogo e la mancanza di una piazzola per il volo notturno nelle vicinanze del DEA di primo livello, l'ospedale di Lavagna. La sintesi degli interventi contenente le note di ciascun comune verrà adesso inviata entro lunedì mattina a Federsanità Anci. Per quanto riguarda le diverse aree in cui sono stati suddivisi gli interventi del piano, per quella dei minori è stata sollevata la necessità di un potenziamento del personale medico dedicato, psicologi e psichiatri per rispondere ad un bisogno in crescita in questi anni e la sperimentazione di strutture per l'osservazione sociosanitaria. Si chiede poi chiarezza su come verranno inseriti nel conto del posti letto quelli che si andranno a realizzare negli ospedali di comunità. Non si comprende se tanti posti letto implementino l'attuale offerta della filiera dei servizi di missioni protette oppure se sostituiscono gli attuali posti interi RSA e le intervive post-attruzzi ospedaliere. Rieccoci in diretta con la rassegna stampa, proseguiamo con la lettura. C'è un altro aspetto da non sottovalutare che viene riportato dal giornale, ossia non dimenticare le valli e quindi l'entroterra, sostenete anche il rilancio della colonia Piaggio e l'appello di Marrè ai colleghi della costa. Marta Marrè, assessore di Santo Stefano Daveto, che appunto chiude la conferenza dei sindaci di Asle 4 e ottiene l'immediata adesione del sindaco di Chiavari Messuti. Inseriamo l'argomento all'ordine del giorno della prossima assemblea, dichiara infatti il primo cittadino, ossia sostenere il progetto per riaprire la colonia Piaggio, creerà, ha detto Marrè, posti di lavoro e darà risposte concrete a un problema in forte crescita, quello dei disturbi alimentari. Quindi Messuti dice, ok, lo inseriamo nella prossima assemblea, iniziamo a far conoscere la volontà di appoggiare l'operazione inserendola nel verbale che invieremo al direttore generale di Asle 4, Paolo Petralia, ieri assente a causa di un impegno concomitante, all'assessore Ligure, alla sanità Angelo Grattarola e a Federsanità Anci, il progetto sul quale Marrè ha chiesto condivisione allo studio quindi del comune avetano da tre anni. Più sotto un'altra questione aperta, quella del Tribunale, siamo in corsa per la ricerca di nuovi spazi, spiega il comitato, martedì visita il Palazzo di Corso dei Michiel. La riapertura, martedì alle 17, la Commissione visiterà il Palazzo di Corso dei Michiel a Chiavari sopra luogo in quello che avrebbe dovuto essere la nuova sede giudiziaria della città e che poi è diventato un contenitore polivalente, dopo l'accentramento a Genova di aule e uffici del Tribunale di Piazza Mazzini. Adesso c'è la possibilità di riutilizzare alcuni spazi per un'eventuale riapertura del Tribunale come avvallato dal Ministero della Giustizia e quindi la Commissione si sta muovendo intanto per cercare di capire dove poter mettere un eventuale nuovo Tribunale del Levante. Le altre notizie a fianco, Sesti-Levante, un volo veloce sulla città che si prepara al voto, c'è Sestri un passo avanti, la seconda lista di Massucco in squadra a Camarda di Atletica Levante, il ceramista gioventura docente Suriano, il candidato sindaco dice al primo consiglio utile istitueremo le consulte di quartiere. Più a fianco Diego Pistacchi nella foto, occupazione sociale Pistacchi al Tassano. Più sotto le associazioni legate al mare lanciano un confronto pubblico, sabato 22 alle ore 17 nella sala congressi dell'albergo Due Mari. Progetti, attività, volontà di non disperdere un patrimonio fatto di tradizioni di cultura che si traduce in valore economico. Dibattito con tutti i candidati, che a Sesti-Levante ad oggi sono sette, peraltro in questi giorni, in queste ore, termina proprio la possibilità di presentare la propria candidatura alle elezioni del 14 e del 15 di maggio. Proseguiamo la cronaca. Tentato, omicidio, l'ombra della droga dietro l'aggressione. L'avevamo visto nella prima pagina. Dopo i fatti di sangue di Genova, il giovane rimane in carcere. Il giovane lavagnese, appunto, interrogato, il 19enne che ha colpito un'amica, la ragazzina a 15 anni è ancora ricoverata, ma migliora. Quindi, allo stato attuale, l'aggressione resta senza movente, ma si addensa qualche dubbio sulla presenza nella zona Teatro dell'Aguato di un gruppetto di ragazzini scappati poi all'arrivo della polizia. Nel frattempo è stato convalidato l'arresto del 19enne di Lavagna, che mercoledì all'alba ha coltellato a un fianco la sua fidanzata di 15 anni in via San Luca. Il ragazzo è difeso dagli avvocati Giorgio Torigino e Daniele Malagamba, si è avvalso dalla facoltà di non rispondere davanti al giudice ed è accusato di tentato omicidio. Il giovane si è detto disponibile ad andare in una comunità, non ha fornito una spiegazione di quanto accaduto, però ha riferito di aver assunto droga e psicofarmaci in passato e i legali stanno valutando se chiedere una perizia psichiatrica dopo gli esami tossicologici. Era stata la stessa vittima a chiamare le forze dell'ordine. La sua situazione sanitaria sembra, appunto, migliorare. Altre notizie, l'emergenza dei cinghiali arriva anche nella riviera di Levante, Lumarzo, c'è il primo caso di peste e suina, cinghiale morto era appunto positivo. Ricordate l'anno scorso, quando questa emergenza era iniziata, la paura dei comuni del nostro introterra, da Lumarzo sino alla Val d'Aveto, che questa situazione non toccasse il nostro territorio a causa delle problematiche che riguardano soprattutto chi lavora nel settore, in particolare, penso, degli allevamenti. Bene, adesso c'è questo primo caso nel Tiguglio. L'Istituto Zoo Profilattico di Torino ha accertato 21 nuovi casi di contagio tra Piemonte e Liguria e all'interno del report è emerso il primo contagio dall'inizio emergenza a Lumarzo. Il sindaco dice che non ha comunicazioni ufficiali, del resto la materia appartiene al commissario. Non credo ci siano nuovi provvedimenti perché il territorio comunale è già inserito nella zona 2, con obbligo di sanificazione per scarpe e gomme di chi si rechinare e boschive. La gente preoccupata, questa è la domanda, soprattutto del proliferare di cinghiali, non tanto della peste suina, quindi la presenza degli animali selvatici, che come sempre creano un problema dal punto di vista della sicurezza, e dall'altra quindi anche della presenza di animali potenzialmente pericolosi in zone che sono frequentate dalle persone. In breve, Rapallo, incontro del PD sul turismo alle 10, nella serie di Via Venezia, Cicagna, quale sanità per l'entroterra, un incontro promosso dal Circolo Fontana Buona, Federazione Tiguglio del PD, oggi pomeriggio alle 16. C'è una doppia iniziativa del secolo XIX, il Sesti Levante promosso in serie C, oggi il poster in omaggio e domani l'inserto speciale per celebrare, insomma, questo appuntamento per il Sesti Levante, atteso da 74 anni, di per sé ha campionato ancora da concludere, un evento già da celebrare. Nel salto in serie C del Sesti c'è anche qualcosa di più, c'è l'orgoglio di un'intera città che vive in maniera viscerale l'attaccamento per il proprio club calcistico, per i propri colori, per quel senso di appartenenza che va oltre la passione sportiva e che accade in una città, se vogliamo anche piccola, quella di Sesti Levante, come spesso non accade invece in altre città molto più grandi. Prima di proseguire con la lettura delle notizie ci colleghiamo con la redazione perché vedo pronta Cristina Oneto, qui do subito la linea. A te Cristina, buongiorno. Grazie Maurizio, un saluto a tutti i telespettatori. Sì, prendiamo la linea dalla redazione per fare il punto dei numerosi appuntamenti che anche a livello di vita diocesana ci saranno in questo fine settimana. Cominciamo da questa mattina quando il vescovo Giampio De Vasini sarà in carcere nella casa di detenzione di Chiavari per la celebrazione del precetto pasquale con tutte le persone detenute all'interno della struttura. La celebrazione sarà alle 9.30. Nel pomeriggio invece i riflettori saranno puntati su Rapallo dove si svolgerà il raduno delle confraternite delle diocesi di Genova, Acqui, Chiavari e La Spezia. Alle 15 il raduno sul piazzale antistante La Funivia di Montallegro, poi la processione con i crocifissi e con il corpo bandistico Città di Rapallo, la Santa Messa che verrà celebrata alle ore 17 dal vescovo De Vasini sul Sagrato della Chiesa e al termine la benedizione con la venerata immagine del transito di Maria. Durante la celebrazione i confratelli rinnoveranno i loro impegni. Domani a Sestri Levante ci sarà un momento di un percorso che è stato avviato in diocesi nell'ambito del cammino sinodale. Sono stati concentrati tre temi su tre momenti, il nascere, il morire e il terzo tema che verrà affrontato domani pomeriggio alle ore 15.30 all'Opera Madonnina del Grappa sarà il tema del crescere. Figli in cerca d'autore in una società senza padri. In ascolto della professoressa Maria Mascheretti, docente di lettere al Liceo Statale Scientifico di Roma. Abbiamo realizzato un'intervista di presentazione, l'ascoltiamo, poi la Lina può tornare allo studio. È il terzo e ultimo incontro all'interno del cammino sinodale. Dopo i concetti di nascere e morire si parla di crescere. Sono momenti di confronto aperti a tutti in cui clero e laici parlano di temi della cultura contemporanea in un'ottica di cammino comune. Alcuni temi, alcuni nodi importanti sull'esistenza umana. Un momento per riflettere insieme. Questo, diciamo che l'organizzazione nasce proprio da questo punto. Il titolo completo è Crescere figli in cerca di autore in una società senza padri e a guidare la riflessione, a partire dalle 15.30 all'auditorium Madonnina del Grappa di Sestilevante, ci sarà Maria Mascheretti, docente di lettere e collaboratrice dell'ufficio vocazioni della CEI. Ed è rivolto a tutte le persone che hanno un desiderio di ascoltare, di riflettere, di condividere proprio le fatiche, ma anche le risorse e le bellezze del rapporto tra adulto e ragazzo. Lo scopo è quello di ascoltare, confrontarsi e approfondire questi temi insieme a delle persone che conoscono bene ciò di cui si parla, cercando di moltiplicare i possibili spunti di riflessione. L'incontro verrà articolato anche con una chat dove ogni persona potrà domandare, raccontare e poi si faranno dei piccoli gruppi proprio per potersi dire, poter riflettere, darsi del tempo per riflettere, per pensare rispetto a questa grande tematica del crescere insieme. Bene, grazie Cristina. Noi proseguiamo con la nostra diretta ultimi minuti, andiamo a vedere le notizie relative invece al turismo e che ritroviamo all'interno della pagina del Levante del secolo XIX. Questa mattina, manager di hotel riuniti all'Eccelsior Palace, focus su turismo e offerta di qualità. Cena di apertura al Bristol, oggi e domani la convention, i manager degli alberghi di lusso fanno il punto sul settore. Hanno raggiunto Rapallo alla spicciolata i circa 100 manager alberghieri facenti parte di EMA Italia. Dopo la cena di apertura al Grand Hotel Bristol di Zoagli, oggi e domani terranno il loro convegno primaverile all'Eccelsior Palace Hotel, a Rapallo appunto. Si parlerà quindi di dove va il turismo al giorno d'oggi e dei servizi da offrire, in particolare per intercettare il settore più elevato della potenziale clientela. L'EMA, l'European Hotel Managers Association, è stata fondata a Roma nel 1974 da un gruppo di direttori generali d'albergo che volevano coniugare un'indiscussa etica professionale con il desiderio di mantenere e di incrementare l'immagine del patrimonio alberghiero. E quindi, questa due giorni serve anche per discutere delle tematiche attuali legate al turismo, pensiamo al numero chiuso di cui si sta parlando. E c'è un intervento che viene riportato dal giornale, quello di Rocco Costanzo, che lavora nel settore a Rapallo, che parla dei flussi da regolare e dice, altro che numero chiuso, ben vengano tanti ospiti, però servono servizi ad hoc. Quindi il dibattito del post-Pasqua continua. Rocco Costanzo, che è titolare di un ristorante a Rapallo, affronta con la sua esperienza da cuoco anche a livello internazionale ed interviene per indicare una visione che esclude i numeri chiusi, quindi i tentativi di rendere la destinazione di Tiguglio più elitaria. Abbiamo passato due anni ad augurarci che i turisti potessero tornare sempre e adesso ipotizziamo di alzare i prezzi, sia pure a patto di servizi migliorati per iniziare a escluderne. Questa è la domanda, un ragionamento che non trovo sensato. E quindi questo è l'argomento che fa discutere ancora. Anche noi abbiamo parlato di turismo con un focus particolare di cui si è occupata Emanuela Castello. Allora lo vediamo e poi ci ritroviamo in studio. La stagione turistica ha scaldato i motori a Pasqua sarà una stagione da record, complice a un mercato in netta espansione, quello degli affitti brevi. Il mondo delle case vacanze è sempre esistito. Un mercato invece nuovo è quello più urbano, che è il mercato cosiddetto delle Airbnb. Quindi Genova, che non era tradizionalmente una città turistica, e lo è diventata anche e soprattutto grazie all'utilizzo da parte dei visitatori dell'affitto breve. Questo nuovo fenomeno è nato più di 15 anni fa. Il Covid lo ha, se vuole, è accelerato. Chi viaggiava, viaggiava vicino. E quindi per i nilanesi, per i torinesi, la Ligua è stata un chiaro mercato di sbocco. Poi perché conoscere appunto la possibilità di poter abitare in casa, in famiglia, con amici, in sicurezza, ma ha portato a un incremento ancora di più di questo utilizzo. Ora l'emergenza sanitaria non c'è più. Quello che si cerca però è l'esperienza. Ma è un mercato che è nato più per gli stranieri. Adesso anche gli italiani, anche dopo il Covid, lo stanno scoprendo. Copriamo un parco turistico che è circa due terzi stranieri e un terzo italiani. In Liguria, per esempio, sono comunque una maggioranza di stranieri, ma gli italiani stanno crescendo. Le città sono in prima fila. Genova, ma anche Milano, Torino, Napoli conoscono un'espansione fortissima del mercato in questi anni. Ce ne sono probabilmente un 90% che hanno un'unica casa, una seconda casa, una casa di vacanze che non utilizzano in maniera continuativa e fanno di questo reddito dalla seconda casa una fonte a volte importante del reddito familiare. Secondo gli operatori del settore, in Italia, le case per affitti brevi affidate ad agenzie sono attualmente 600 mila. È un turista che tende a restare qualche giorno in più, è un turista che cerca comodità, che ha bisogno di più spazio. Per esempio una famiglia, un gruppo di amici, per esempio chi viaggia con animali. Molti cercano comunque una possibilità, se non tutti i giorni, almeno alcuni giorni, di poter cucinare i prodotti locali. Bene, rieccoci in studio. Allora un volo sulle ultime notizie. Piccole manutenzioni rurali finanziati i corsi di formazione. È già pubblicato il bando per dieci giovani. CNA Tiguglio spiega, ora bisogna trovare gli interessati. La formazione è un elemento fondamentale del lavoro in edilizia, lo dicono in tanti, adesso che l'effetto dei bonus degli ultimi anni va esaurendosi e che la chiave del futuro sembra essere quella di lavori esternamente specializzati, comunque legati alla riduzione dell'impatto delle costruzioni sull'ambiente e i consumi energetici. Quindi questo bando è stato pubblicato, si parla di dieci giovani, bisogna insomma trovarli perché il settore certamente ne ha bisogno e poi è comunque un aspetto importante anche dal punto di vista del lavoro. Velocemente alcuni temi, politica per esempio di Santa Margherita Ligure, c'è stato il Consiglio Comunale, si è parlato di Villa Carmagnola al Comune, la minoranza esce dall'aula, scontro in consiglio sull'acquisto dell'immobile del parco all'università, pratica consegnata il giorno prima della seduta, impossibile approfondirla. Si parla di 1.380.000 euro, questo il costo, l'Ateneo mantiene due saloni incomodato gratuito per 99 anni, però c'è stata appunto la protesta da parte della minoranza per il poco tempo a disposizione per studiare la pratica. Lavagna, Paravella e Borreglia, la libreria dei Fieschi, oggi doppio appuntamento con gli autori, dalle 10 alle 12.30, l'incontro con Paravella, autrice di Cammini, dalle 16 alle 18.30, Francesco Borrelli con Childlike come un bimbo, opera prima. Più sotto, Sesti Levante, oggi tavolo della legalità, siedono anche gli studenti, prosegue l'impegno per costituire una consulta. Al Nata De Ambrosi, assemblea d'istituto con Libera, il carcere e l'associazione Nassa. Spiaggia di Priaguea ha messa in sicurezza la parete rocciosa, siamo a Camogli, intervento da 21.000 euro. Ancora, area marina e WWF insieme sui fondali, dichiarano guerra alle reti fantasma, anche i subacqui in azione per il progetto Eco Fish Hand, le lenze abbandonate sono una minaccia per l'ambiente, l'abbiamo detto spesso, abbiamo visto molte immagini con lenze abbandonate sui fondali, che poi si vanno ad impigliare a quello che è l'ambiente marino, un ambiente marino protetto, e quindi c'è questa collaborazione per cercare di migliorare la situazione. Gita al Passo del Bacio, è un ritorno alla normalità, ma i controlli proseguono, siamo sui sentieri del monte con la guida, e si cerca di tornare alla normalità dopo la tragedia del 12 marzo, quando lo ricorderete, un giovane appassionato di trekking, Eroscoppola, aveva perso l'equilibrio precipitando nel vuoto, e in pochi poi si erano avventurati lungo il sentiero del Passo del Bacio, dove in ogni caso continuano appunto i controlli. Siamo allo sport, prima di chiudere al Comunale arriva la Re Canatese, per l'Entella è obbligatorio vincere l'ultima della stagione regolare a Chiavari, e Volpe dice che questo gruppo merita per tutto ciò che ha fatto. Vediamo l'intervista di presentazione della partita che si giocherà oggi pomeriggio alle 17.30 al Comunale. Vietato sbagliare per la Virtusentella, con la Re Canatese sabato pomeriggio al Comunale, e poi domenica 23 in casa del Siena, serve vincere per sperare ancora nella promozione diretta in Serie B. Necessario anche che la Reggiana, prima con due punti di vantaggio, lasci qualche punto per strada. Una partita importantissima, commenta l'allenatore bianco celeste, e Gennaro Volpe alla vigilia. Ormai siamo arrivati alla fine di questo campionato. Sappiamo che ce la giocheremo con tutte le nostre forze, sapendo che c'è bisogno di ottenere il massimo. Noi vogliamo continuare il nostro percorso, vogliamo continuare ad inseguire il nostro obiettivo, il nostro sogno. Sabato non ci saranno pelizzare morosini, fermati da infortuni muscolari. In dubbio anche Barlocco, chiose ai meazzi che non sono al meglio. La squadra sta bene, la squadra è concentrata, sappiamo quello che dobbiamo fare, i miei ragazzi domani devono andare in campo a testa no alta, altissima, perché quello che stiamo facendo è qualcosa di importante. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada e alla fine di questi 180 minuti tireremo le somme. L'area canatese è al dodicesimo posto, ma può ancora sperare di arrivare tra le prime dieci e guadagnarsi un posto nei play-off. Il Vimini decimo dista solo tre punti. Sabato al comunale è attesa una grande partecipazione di pubblico. Questi ragazzi meritano tanto, per quello che hanno fatto, per quello che hanno ottenuto, con tanti sacrifici. Abbiamo ottenuto 75 punti e questo è un dato che nessuno può cambiare e che nessuno può criticare. L'Entella cerca di agguantare dunque il primo posto, ma deve stare attenta anche all'inseguitrice, il Cesena, quindi vediamo lo specchietto in fondo alla pagina sportiva, le altre sfide di oggi. Reggiana, Ostacolo, Olbia, forse la partita più difficile, questa in trasferta per la prima in classifica, che deve difendere i due punti di vantaggio su Lentella. Il Cesena invece incontra in casa la Vis Pesaro, quindi vedremo come andrà un pomeriggio ad alta tensione negli stadi del girone B della Serie C. Noi siamo in chiusura, prima di farlo andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti previsti per la giornata di oggi. Appuntamenti in agenda per sabato 15 aprile, primavera al Parco della Delasia, il titolo dell'escursione guidata a cura dell'ufficio peregrinaggi della Diocesi di Savona Noli, alle 9 la partenza della camminata lungo un sentiero ad anello nell'antico bosco savonese. In occasione del mercato settimanale a Sestri Levante, una unita mobile dell'ASL 4 Gulliver effettuerà uno screening gratuito, cardiologico e uno screening per il diabete rivolto a tutta la popolazione. Cogorno aderisce alla giornata nazionale della gentilezza dei nuovi nati nell'anno 2022. Alle 10 al centro di aggregazione di via Divisione Coduri si daranno appuntamento le famiglie ai nuovi nati. Nel giardino della struttura verrà piantato un albero come simbolo della vita. A partire dalle 10.30 a Genova nei Giardini Luzzati è in programma l'incontro con Stefano Mancuso, divulgatore di fama internazionale, accademico e saggista che affronterà il tema dell'impatto ambientale e dello sviluppo degli ecosistemi sociali. Palato fino a Portofino è il titolo della rassegna enogastronomica che si aprirà alle ore 11 nella celebra piazzetta. Per due giornate il borgo sarà sede di un'esperienza culinaria unica con degustazioni e stand sino alle 20.00. È aperto alle visite il castello cinquecentesco di Santa Margherita Ligure di orari tutti sabati dalle 15 alle 17.30. All'interno delle sale espositive e multimediali il pubblico verrà portato alla scoperta dei fondali marini, dei tesori nascosti e della storia marinara della città. Workshop sulla sicurezza in mare dedicato ai benisti si terrà dalle 15 all'interno di Marina Chiavari Calata Ovest al porto di Chiavari interverrà Luca Sabiu Nella sala polivalente lavoratori di Recco alle 15 verrà ospitato il convegno alla Valle del Tempo incentrato sulle potenzialità e criticità di quella valle comprendente i comuni di Recco, Avegno e Duscio Alle 15.30 nel seminario Vescovile di Savona il teologo carmelitano parigino padre François Mariletè parlerà su Vera Gritta una mistica dell'Eucaristia Quinto incontro per l'Aicisma che verrà animato da Suoretta Profumo delle Suore di Santa Maria di Castello e Nostra Signora delle Vigne l'inizio alle 16 nella sede della SMA in Via Borghero a Genova I Colori del Mondo è il titolo della mostra che verrà inaugurato alle 16 nello spazio espositivo Y-Lab in Via Gagliardo a Chiavari la fotografica personale delle stand a Pratelli sarà visitabile sino al 30 aprile alle 17 l'auditorio San Francesco di Chiavari per la rassegna Primavera Concerti verranno rappresentate le nozze di Figaro di Mozart personaggi ed interpreti saranno accompagnati dall'orchestra del Conservatorio Puccini di La Spezia direttore Giovanni Di Stefano che dalle 16.30 introdurrà l'opera narrandone la trama e le curiosità invecchiano solo gli altri è il titolo della conferenza organizzata dal bandolo che si svolgerà dalle 17 nella sala Ghioschiffini della Società Economica Chiavarese interverranno l'antropologo Marco Aime e lo scrittore Luca Borzani alle 18.30 sul palco di Via Lenda Genova arriva Boots sul Campo inchiesta spettacolo sui destini dei teatri nel nostro paese di Chiara Lombardo ed Elisa Occhini prodotto dal Teatro della Caduta di Torino il Medico dei Pazzi a Cicagna alle 21 le strampalate desilaranti vicende del Teatro di Edoardo Scarpetta verranno portate in scena nel Teatro Comunale dalla compagnia Avanti Tutta compagnia stabile Teatro Govi Traverlong è il titolo dello spettacolo musicale che porteranno in scena i De Soni Mitchell Tribute alla Circolarci Orchidea di Santa Margherita Ligure l'inizio alle 21.30 Bene è tutto per questa edizione della Rassegna Stampa ci ritroviamo in diretta con il telegiornale alle 12.45 continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata grazie per la visione